Ben trovati ai telespettatori di Cilento Channel, benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'ospite nel telegiornale. È tornato nei nostri studi a trovarci l'assessore alle politiche di sviluppo sostenibile della città di Agropoli, Massimo Laporta. Benvenuto assessore. Grazie per l'invito. Ovviamente l'assessore Laporta è anche la delega di protezione civile per la città di Agropoli, infatti è proprio della protezione civile, quindi del gruppo comunale di protezione civile che oggi vi parleremo. Sono tante le attività che durante tutto l'arco dell'anno 2016 avete realizzato nella città di Agropoli e non solo. Per l'esattezza 3.166 ore sono state svolte, una media di 72 ore a volontario. Cominciamo a fare un po' un escursus di quello che è stato l'anno appena trascorso, assessore. Sì, sicuramente come priorità noi diamo sempre alla formazione. Difatti in queste ore, in questi giorni è in corso un ulteriore corso di reclutamento di altri 32 volontari di protezione civile, con una presenza non soltanto di cittadini di Agropoli, ma anche di altri comuni limitrofi. È una bellissima soddisfazione perché il gruppo di protezione civile in un modo coeso è del tutto volontario. Io non mi stancherò mai di ringraziare i cittadini di Agropoli che in forma del tutto volontario portano avanti un progetto di protezione civile che ci fa stare tranquilli tutti noi cittadini di Agropoli. Un lavoro che si fa 365 giorni all'anno con un turno di reperibilità. Prima si rappresentava mediamente circa 72 ore da parte di un volontario di prestazione. È un risultato importante perché al di là della formazione che si fa in sede i volontari hanno fatto una serie di interventi sul territorio sia nel periodo estivo sia durante tutto l'anno, anche con degli eventi tipo il carnevale, degli eventi che sono stati fatti sull'area di Trentova da associazioni tipo le eventi sportive. Il lavoro che la protezione fa è quello della previsione e della prevenzione. Io non rischio più la nostra campagna della città di Agropoli va avanti quotidianamente con il conoscere il territorio perché la cosa più importante è che il volontario deve conoscere l'intero territorio comunale perché in caso di calamità che può accadere tipo il terremoto noi vediamo per televisione in questi giorni quello che sta accadendo sull'Italia centrale. Oggi c'è un combinato, oltre al terremoto vi è la presenza delle cattive condizioni meteo, in particolare la neve e lì anche la protezione civile nazionale sta dando un grande segnale con i suoi volontari di grande presenza sull'intero territorio dell'Italia centrale. Ricordiamo che il gruppo di protezione civile della città di Agropoli ha 45 volontari, tutti impegnati come lei poco anzi ci illustrava. Da poco è stata organizzata anche un'esercitazione di evacuazione negli istituti scolastici della scuola elementare Gino Landolfi e anche dell'istituto Gian Battista Vico di Agropoli. Come è andata e in che cosa ha consistito questa prova? I risultati sono stati straordinari, abbiamo avuto modo di verificare i piani di evacuazione dell'istituto scolastico Gino Landolfi, plesso qui Piazza della Repubblica, abbiamo riscontrato perché noi in questa esercitazione i nostri volontari sono degli osservatori, verificano tutte le criticità che eventualmente il piano di evacuazione disposto dal dirigente scolastico possa presentare delle anomalie. In particolar modo noi abbiamo riscontrato come sia efficace il piano di evacuazione della Landolfi perché in pochissimi minuti tutti i 650 bambini che sono presenti nell'istituto in un modo corretto rispettando tutte le regole di base di comportamento che deve assumere l'alunno in caso di terramoto, il risultato è stato eccellente. Perché diciamo che le buone pratiche della protezione civile si impartiscono proprio dai più piccini per arrivare poi nelle famiglie e quindi ai genitori. L'obiettivo nostro oltre quello di assistere il dirigente scolastico per portare avanti le prove di evacuazione, prima si rappresentava che non soltanto la Landolfi ci ha richiesto supporto, anche l'istituto tecnico commerciale abbiamo fatto la stessa prova e nei prossimi giorni verrà fatta anche presso la scuola media. Un risultato importante perché questa sinergia e il lavoro che si fa quotidianamente con le strutture scolastiche riusciamo a diffondere sempre di più la cultura di protezione civile. Grazie anche alla campagna informativa che avete realizzato lo scorso anno, quindi nel 2016, io non rischio più. Una campagna che continuerà anche nel 2017 e verrà estesa anche ad altri classi? Sì, voglio dare la notizia che anche quest'anno si riparte dalla scuola primaria con l'istituto Landolfi e l'istituto di San Marco o nei rispettivi dirigenti scolastici abbiamo convenuto di rifare il progetto io non rischio più e di incrementare, mentre lo scorso anno si è fatto in via sperimentale, quest'anno si incrementa con ulteriori classi, proprio per far sì che la cultura di protezione civile entra nelle famiglie, perché il nostro obiettivo è quello di dare quante più notizie possibili ai bambini che stavolta stimolano i genitori affinché il piano diventa un qualche cosa di presente in casa. Ovviamente per far appassionare ancora di più i nostri telespettatori alla figura del volontario della protezione civile, vogliamo ricordare durante i corsi che si tengono ad Agropoli che cosa è che si fa in pratica e che cosa si apprende? Sappiamo che in questi giorni sono proprio iniziati i corsi. Sì, sono iniziati i corsi e noi come punto fondamentale cerchiamo di far capire quali sono i tipi di calamità, in particolare il modo il terremoto, poi il rischio idrogeologico che è un altro problema che la città di Agropoli può avere, perché la città come ben nota è attraversata da un fiume importante, il fiume Testene, che in caso di condizioni meteo portano all'inalzamento delle acque del fiume e il rischio di sondazione ci può essere. Tanto le nostre energie le mettiamo proprio per far capire i comportamenti che si devono assumere in caso di questo. Queste sono le norme di base che noi cerchiamo di diffondere ai bambini, proprio per far capire i comportamenti e di scontrare subito quali sono le criticità che la calamità può accadere. Assessore, in conclusione della nostra chiacchierata vogliamo ricordare i riferimenti per far capo al gruppo di protezione civile per ogni emergenza. Sì, noi abbiamo un numero nostro di protezione civile che è il 0974 82 94 88. Poi sul sito istituzionale del comune di Agropoli si può avere qualsiasi notizia oppure venire in comune al secondo piano, vi è proprio un ufficio del coordinatore di protezione civile che può dare qualsiasi indicazione. Benissimo, ricordiamo anche che c'è una sede vera e propria della protezione civile ubicata al porto, presso il porto turistico della città di Agropoli e lì avvengono i corsi, gli incontri e ovviamente si discute anche sul da farsi delle attività quotidiane. E ringraziamo nuovamente l'assessore Massimo Laporta per essere stato qui nei nostri studi. Grazie a voi. E ci rivedremo per un prossimo appuntamento sempre con l'ospite nel telegiornale di Cilento Channel.